Nuova sfida domenica al Palazzetto dello Sport d'Imperia per le ragazze dell'Under 16 e della Riviera Handball. Le ragazze di casa incontreranno l'Under 18 del Mantua San Lazzaro. Il fischio d'inizio è alle 14. Le ragazze di Antonella Maglio arrivano alla partita, forti dei recenti successi, ultimo dei quali, in ordine cronologico, quello conquistato con le pari età dello Spezia al termine di un incontro divertente e molto combattuto. La Riviera Handball, che ha sede nella cupola di Ponte d'Assio, svolge anche un'importante azione di promozione fra i giovani dell'entroterra.